Ciao a tutti ragazzi, eccoci qui, benvenuti su Stay Nerd, io sono Alessia e questo è Japan Wildlife. Oggi sono di nuovo da sola, però ho pensato fosse un'ottima occasione per continuare a parlare un po' di Giappone tradizionale. L'ultima volta abbiamo parlato del calendario Wareki, quindi di come in Giappone si usasse contare il tempo e osservare quindi anche i cambiamenti climatici e stagionali nel corso dell'anno e siccome avevo anche citato i festival tradizionali che si svolgono appunto praticamente in ogni stagione, ho deciso di parlarvi anche dei kimono e degli yukata, quindi di abbigliamento tradizionale e per chi non lo sapesse questo podcast è anche registrato in video, perciò seguiteci anche sul nostro canale YouTube Stay Nerd, dove trovate non solo Japan Wildlife, ma anche Reading e Gaming Wildlife, i nostri podcast. Quindi mi raccomando non perdeteveli e soprattutto, insomma, se volete vedere il mio kimono e il mio yukata, ecco qua li troverete, perché appunto li ho tirati fuori apposta per parlarvi meglio di questo tipo di indumento che oggi viene indossato sicuramente molto meno rispetto a diversi anni fa, fino agli anni del periodo Edo, poi col periodo Meiji, diciamo che l'indossare il kimono pian piano è andato scemando semplicemente perché il Giappone ha voluto adattarsi allo stile occidentale, diciamo così, in praticamente ogni aspetto, quindi il kimono poi è diventato sostanzialmente una prerogativa di determinati eventi, determinate occasioni e appunto oggi voglio spiegarvi non solo quando vengono indossati, ma anche di cosa sono fatti, quando si utilizzano, con che cosa vengono utilizzati, quindi insomma accessori e quant'altro e poi anche spiegarvi un po' la differenza tra il kimono appunto e lo yukata. Sono due indumenti che si assomigliano molto e sicuramente voi avete visto entrambi tra fotografie su internet oppure comunque negli anime con i personaggi che si vestono in modo tradizionale per qualche festival e quindi vi spiegherò meglio che cosa differenzia e allo stesso tempo quali sono le caratteristiche che hanno in comune questi due capi d'abbigliamento. Io vi parlerò principalmente ovviamente del kimono da donna perché è quello che posseggo e in realtà è anche quello con più caratteristiche e più varietà, diciamo così. Anche il kimono da uomo ha delle differenze tra quelli indossati in occasioni formali e quelli un po' meno informali, però sostanzialmente possiamo dire che sì, il kimono è disponibile in varie taglie, quello da uomo, mentre quello da donna ha praticamente una taglia unica e che viene poi adattata quindi alla forma del corpo della donna e si rimbocca e si piega appunto per dare questa forma molto dritta, molto neutra, quindi non si vuole sottolineare effettivamente la figura della donna come tendiamo a fare adesso con le sue curve. Ecco, e infatti spesso volentieri ho sentito dire che certa gente crede che il kimono e lo yukata stiano meglio appunto alle giapponesi proprio perché non hanno delle curve pronunciate come magari le donne occidentali, però secondo me non è assolutamente vero e quindi il kimono se ve la sentite potete indossarlo anche voi e spero che vi possa essere utile questo podcast perché in Italia ci sono anche diversi negozi che li importano dal Giappone, sono spesso volentieri kimono vintage, quindi comunque di diversi decenni fa ma sempre molto tenuti bene con dei difetti talmente minimi che secondo me non si possono neanche considerare dei difetti e quindi se trovate qualcosa mi fa piacere se poi lo comprerete perché vi sentirete sicuri grazie a questo podcast. Quindi cominciamo subito e innanzitutto stabiliamo quando vanno indossati naturalmente. Io sfortunatamente ho avuto pochissime occasioni per indossare il kimono anche perché in realtà è piuttosto difficile indossarlo, spesso volentieri bisogna effettivamente farsi aiutare. Esiste addirittura una qualificazione nazionale in Giappone per proprio definirsi esperto di vestizione del kimono quindi serve un grande esercizio e studio. Una regola importante che vi posso già dire comunque è che non va messo il lato destro del kimono sopra il sinistro quindi mi raccomando fate sempre il contrario sotto il destro sopra il sinistro perché al contrario sarebbe diciamo quello che si fa quando si assiste a dei funerali e diciamo che sarebbe un po' strano farsi vedere così in giro. Quindi questa cosa è molto importante perché ci fa anche capire che il kimono appunto si indossa proprio per eventi importanti e o formali. Una volta ovviamente veniva indossato a livello quotidiano perché kimono proprio i suoi kanji, kanji che lo compongono sono ki, kiru, cioè appunto indossare e mono che significa cosa quindi è letteralmente cosa da indossare ed è appunto questo capo d'abbigliamento tradizionale che poi ha varie distinzioni però alla fine sono tutti definibili kimono quelli che si vedono in giro non importa se ad esempio lo vedete con delle maniche più lunghe del solito poi approfondiremo meglio che tipi di kimono esistono però sempre di questi si tratta e lo yukata fa parte di questi tipi solo che si differenzia per origine e utilizzo e poi anche per il materiale di cui è fatto. Lo yukata come kanji infatti ha questi due che indicano sostanzialmente che veniva usato come una sorta di accapatoio. Nei ryokan quindi negli alberghi tradizionali giapponesi che di solito hanno anche delle onsen quindi delle terme vengono appunto forniti gli yukata dopo aver fatto il bagno quindi lo yukata nasce in questa maniera e perciò viene usato nei festival estivi di solito si vede magari in qualche anime dove le protagoniste si vestono in occasione di un festival estivo oppure comunque in generale durante questa stagione perché è fatto di un tessuto molto leggero rispetto al kimono e quindi non viene mai indossato nelle occasioni formali mentre il kimono lo potreste indossare per un matrimonio appunto come dicevo un funerale o magari qualche altra cosa particolarmente importante. Come vi stavo dicendo sono fatti anche di materiale diverso il kimono e anche lo yukata possono essere fatti di lino o poliestere perché ormai possono diciamo essere prodotti in serie e quindi in effetti online potreste trovare qualche kimono diciamo non proprio di gran qualità e però sicuramente infatti sarà fatto di poliestere quindi il kimono vero diciamo quello che potreste considerare il migliore in assoluto è fatto in seta e le famiglie spesso volentieri proprio perché tra l'altro è molto molto costoso ma davvero molto se arriva a migliaia di dollari come come cifre quindi anche in euro più o meno siamo lì ecco venivano infatti diciamo tramandati di generazione in generazione per questa ragione e perciò anche per questo motivo i kimono vintage che trovate sono tenuti molto molto bene e il kimono quindi può essere fatto di seta mentre lo yukata come vi dicevo è di solito di un tessuto leggero quindi può essere anche lui infatti di lino ma è soprattutto fatto di cotone è facile da lavare e soprattutto quindi è traspirante perciò anche col fatto poi che insomma leggero è fatto di cotone risulta naturalmente meno costoso io qui in camera per chi sta guardando il video youtube sto mostrando il mio kimono che è di un colore lilla con dei decori floreali che però sono veramente molto molto leggeri e per nulla diciamo troppo grandi e quindi troppo evidenti sono veramente molto delicati ed eleganti proprio perché il kimono non deve essere appariscente mentre lo yukata solitamente ha un altro tipo di pattern molto più vistoso e infatti nel mio caso tra l'altro è di un colore scuro insieme a del bianco e poi ci sono un sacco di fiori sul rose sul lilla anche in questo caso quindi diciamo che si differenziano anche per questa ragione sono veramente diversi per occasioni in cui si usano per come sono fatti e di conseguenza anche poi per gli accessori che si utilizzano insieme infatti per il kimono ad esempio c'è questa specie di intimo che si chiama juban io purtroppo questo non lo posseggo che è sostanzialmente una veste leggera bianca che non deve spuntare da sotto il kimono quindi il kimono siccome è anche lo yukata arriva all'altezza poi delle caviglie quando viene rimboccato e insomma messo in posizione il juban non si deve vedere appunto quindi è sicuramente un po più alto come come lunghezza perciò al di sopra delle caviglie e in particolare viene indossato perché poi ha questo colletto che di solito spunta appunto dal kimono bianco che quindi da questo tipico colletto anche un po più rigido del kimono rispetto allo yukata anche perché lo yukata infatti non utilizza il juban come sottostrato ecco poi in particolare queste invece ve le posso mostrare cambiano anche le calzature innanzitutto col kimono si indossano i tabi quindi diciamo dei calzini infradito ecco non volevo utilizzare questa parola però alla fine è questo perché abbiamo esattamente il dito dell'alluce separato da tutte le altre dita e quindi questo calzino che appunto arriva tra l'altro anche questo più o meno alla caviglia si allaccia sul retro e si indossa poi con i sandali tipici cioè gli zori e anche di questi vi posso mostrare un paio che di solito sono di legno con appunto poi delle decorazioni nel mio caso ad esempio comunque la parte in cui si infila il piede è un po più imbottita così appunto non non fa troppo male al piede mentre invece lo yukata va indossato senza calzini quindi un po come per noi che il insomma il calzino con l'infradito non è proprio il massimo della dell'estetica allo stesso motivo per lo stesso motivo diciamo anche quando si parla dei gheta quindi dei sandali che si indossano con lo yukata si indossano appunto a piedi nudi nel mio caso anche questi sono credo di legno avrete sentito che li ho sbattuti un pochino e però sono sempre anche questi abbinati diciamo allo yukata perché si presta molta attenzione sia con lo yukata che col kimono agli accessori appunto e a come si sposano a livello di decori e colori con il pezzo unico del del kimono e infatti oltre a questi accessori ad esempio potreste avere anche delle borsette io ne ho una per sia per il kimono che per lo yukata perché nel mio caso con lo yukata la borsettina quando l'ho comprato era inclusa e poi ne ho comprata una anche per il mio il mio kimono che si abbinasse in particolare al lobby e lobby è la classica cintura bella grande insomma che tiene tutta ferma la la struttura del kimono e nel mio caso il lobby del mio kimono è rosso molto decorato con anche qui motivi floreali con sia del bianco che dell'oro e si distinguono anche in questo caso però yukata e kimono per proprio il loro hobby perché l'obby del kimono è molto spesso è molto rigido e quindi è anche un po più difficile diciamo da legare lo ammetto anche questo ho sempre fatto un po di fatica mentre invece l'obby dello yukata può essere molto più sottile e morbido proprio perché si tratta di un indumento estivo e quindi spesso i giapponesi potrebbero dire se vi vedono con un hobby da kimono che gli fate caldo solo a guardare perché non è esattamente il suo quindi bisogna prestare attenzione anche solo a queste cose non potrei mai indossare quel lobby con lo yukata e infatti per lo yukata ne ho una parte che però si è un po rovinato e quindi non ho potuto mostrarvelo dopodiché come come si indossano appunto vi ho detto che si praticamente rimboccano i vari strati del kimono dello yukata perché comunque sono entrambi più lunghi ecco della dell'altezza della della persona che l'indossa di solito diciamo che almeno 30 40 centimetri secondo me sono un po più lunghi e appunto poi si tengono fermi i vari lembi di stoffa con delle strisce anche in questo caso di stoffa molto lunghe perché fanno di solito anche un doppio giro e che poi vengono però tranquillamente coperte con lobby quindi non c'è pericolo perciò come vedete c'è diverse ci sono diverse cose a cui badare quando si fa l'acquisto di un kimono o di uno yukata immaginate come doveva essere praticamente anni fa se non secoli perché intanto come vi accennavo forse all'inizio i kimono per le donne esistono di tipi diversi e veramente ognuno pensato per una qualche occasione particolare può essere appunto quello delle spose lo shiromuku oppure iro uchikake oppure abbiamo il furisode il furisode è di solito per le donne non sposate e di solito anche viene indossato dalle ragazze che vanno a partecipare alla cerimonia di maggiore età che avviene all'inizio di febbraio se non sbaglio giù di e ed è caratterizzato da appunto delle maniche molto lunghe come vi accennavo proprio perché sono questi piccoli dettagli che però rendono diverso l'indumento e quindi anche l'occasione per cui viene indossato infatti esiste appunto il kimono apposta per i funerali che ovviamente è nero e si esistono poi appunto quelli praticamente per la vita di tutti i giorni soprattutto quelli magari senza particolari design oppure persino quelli apposta per il genitore che partecipa alle cerimonie scolastiche dei figli davvero c'è di tutto e di più e questi sono solo i kimono da donna però in particolare volevo accennarvi ad esempio parlando ancora degli accessori altri tipi di cose utili che ovviamente se poi vi interesserà approfondire trovate tutto online naturalmente ma in particolare vi consiglio di o seguire addirittura un corso magari per imparare la vestizione del kimono oppure appunto di farvi aiutare perché è proprio una un'arte ci sono dei riconoscimenti statali insomma del governo giapponese per appunto chi diventa vuole diventare un esperto di vestizione quindi non è una cosa da prendere alla leggera è complessa e perciò appunto mi faceva piacere però indicarvi qualche altro piccolo accessorio che potrebbe piacervi ad esempio secondo me l'obigime è molto carino è una sorta di cordoncino io purtroppo questi accessori che vi andrò a citare ancora non li ho proprio perché mi dispiace magari possederli e poi non avere non avere occasione di indossarli però ecco l'obigime è questo cordoncino anche questo in seta intrecciata e si usa per tenere fermo lobby sostanzialmente quindi in particolare poi anche il suo nodo posteriore e mi raccomando questa è un'altra cosa da non sbagliare quando lo annodate cercando di vestirvi da sole non annodatelo e lasciatelo davanti cioè non fatelo girate lobby in tutti i tutorial che ho visto appunto le ragazze lo fanno vedere che bisogna far girare lobby fino a far arrivare il nodo sul retro perché veniva portato davanti solamente dalle prostitute quindi mi raccomando non fate questo tipo di errori diciamo abbastanza superficiali perché è un peccato e l'obigime insomma tiene fermo questo nodo di fiocco del lobby e in solo come decorazione appunto una decorazione in più per per lobby per la vita insomma altrimenti un'altra cosa molto carina e che ho visto soprattutto essere un pezzo che sta venendo proprio rimodernato dalla moda dei nostri giorni è lo haori che è una sorta di soprabito diciamo può arrivare come lunghezza ai fianchi l'anca più o meno o addirittura anche la coscia però insomma avete capito più o meno l'altezza e aggiunge di solito un'ulteriore formalità all'intero outfit non è antico tanto quanto il kimono perché il kimono risale comunque al periodo heian quindi siamo nel 794 fino al 1185 per quanto riguarda il kimono mentre lo haori come soprabito viene introdotto già nel quindici sedicesimo secolo perciò molto più avanti e all'inizio era anche solo riservato agli uomini quindi non non era una cosa insomma indossabile dalle donne fino poi al periodo meiji quando è entrato di moda diciamo e alla fine comunque siamo sempre stati noi occidentali no a influenzare anche lo stile d'abbigliamento poi nipponico e quindi la ori secondo me è una cosa molto carina anche questa da avere anche senza il kimono perché appunto si sta cercando di svecchiarlo e l'ho visto indossare proprio come un soprabito su anche normali insomma da tutti i giorni e magari anche questo tenuto in vita per ovviamente sottolineare meglio la figura anche questo tra l'altro proprio con un bigime quindi davvero ho notato che questi indumenti tradizionali non non vogliono essere dimenticati non si vuole lasciare che che vengano dimenticati e quindi tanta gente poi soprattutto grazie a internet sta cercando di riportarli alla ribalta però rinfrescandone l'utilizzo infine un'altra cosa che secondo me può essere utilizzata appunto alla stessa maniera nella vita di tutti i giorni sono i kanzasci e i kanzasci sono degli ornamenti per i capelli di solito hanno dei fiori sono fatti di seta oppure sono dei pettinini di legno oppure delle forcine diciamo quindi comunque qualcosa che può anche tenere proprio ferma la vostra acconciatura e servono ovviamente anche a decorarla e anche qui si può prestare particolare attenzione al fiore appunto che magari è rappresentato nel dal kanzasci quindi se si abbina bene al vostro kimono dovete badare non solo al colore ma magari anche proprio al tipo di fiore perché per ogni stagione abbiamo ormai capito ci sono fiori diversi soprattutto in giappone ci sono tantissimi fiori con diversi significati che hanno acquisito tramite l'arte e la poesia e magari un giorno ne parliamo ma se intanto volete approfondire questi dettagli potete leggere il mio articolo sulla hanakotoba sempre sul sito di steinerd naturalmente e quindi il kanzasci insomma è un'altra cosa che sicuramente potreste trovare in giro soprattutto notato che si trova tranquillamente su qualche banchetto alle fiere del fumetto ora che stanno ricominciando quindi se vi possono interessare sicuramente li trovate più facilmente e sono ovviamente più abbordabili come prezzo rispetto un intero kimono però ecco a proposito di kimono e del succitato periodo eian volevo concludere questo excursus dedicato a questi abiti tradizionali parlandovi di un kimono molto particolare che si chiama junikito e e consisteva in ben 12 strati quindi in realtà è stato utile che nel corso di questi decenni e secoli ovviamente si sia iniziato a semplificare un po il kimono perché nell'epoca eian e soprattutto in particolare nell'ambiente di corte il junikito e veniva indossato dalle dame e appunto come vi dicevo consiste in 12 strati ormai non viene indossato ovviamente da nessuno e in realtà nemmeno dal dalla famiglia imperiale è successo che l'imperatrice quella attuale insomma in occasione della salita al trono del principe naruito quindi l'attuale imperatore lei indossasse questo tipo di kimono che però ovviamente lei avrà sentito che era esattamente come nel periodo eian cioè impossibile muoversi perché 12 strati capirete bene sono decisamente pesanti non significa che siano 12 kimono letteralmente sono tipi diversi di indumenti che però messi uno sull'altro effettivamente non sono proprio la comodità però una volta le dame di compagnia in generale le dame di corte non è che dovessero esattamente farsi le corse in giro per il palazzo quindi dovendo dedicarsi sostanzialmente ai loro sollazzi non c'era bisogno di fare questi grandi questi grandi movimenti e poi volevo anche però citare in particolare nella speranza che in futuro ne potremo parlare meglio anche il kimono indossato dalla geisha e che richiedeva appunto un tipo di vestizione elaborata e complessa quindi di nuovo come vi dicevo prima è importante non solo indossare bene il kimono ma soprattutto farsi aiutare perché appunto anche per una figura così iconica è chiaro che quindi non potevano essere belle come le vediamo e le conosciamo da sole ma grazie a delle figure che purtroppo stanno anche andando perse di esperti che quindi si occupavano esclusivamente di loro e di quel specifico aspetto della loro immagine quindi mi sentivo in dovere di citare anche questo e quindi anche anche per questo motivo tra l'altro la geisha si distingue appunto dalle dalle prostitute dalle oiran proprio per via anche di quel di quel kimono e di tutte le decorazioni di cui ho parlato prima quindi dei kanzashi sulla testa delle acconciature gli accessori che ci si portava dietro e anche del lobby come vi dicevo prima che va girato sulla schiena mi raccomando quindi niente questo era il mio piccolo excursus sul kimono e lo yukata spero che vi sia piaciuto e ovviamente ci sarebbe molto di più da dire ma non sono penso la persona adatta quindi chi lo sa magari conoscerò qualcuno e mi farebbe molto piacere nel caso altrimenti se lo conoscete voi di quindi mettetemi in contatto perché mi piacerebbe davvero parlare con qualcuno di esperto nella vestizione e sarebbe davvero interessantissimo quindi chi lo sa un giorno magari riusciremo a fare anche questo io spero dicevo che vi sia piaciuto questo queste queste questa serie di curiosità e come sempre mi trovate su instagram al nickname orient underscore alle 94 e o altrimenti ovviamente su sulle pagine di stay nerd con i miei articoli spero davvero di rivedervi presto e grazie mille per l'ascolto bye bye